Carissimi amici, sono PaninoTube e ci siamo qua su Pencil Rush Praticamente è una fusione fra i giochi di corsa che noi abbiamo visto in passato con Just Draw Infatti qua dovremmo fare la lunga corsa di pennarelli più lunga del mondo Dovremo disegnare il nostro tracciato Mi raccomando, lasciate qui sotto tanti miei like Iscrivetevi al canale con la campanella attiva per far parte della PaninoFamily Partiamo subito e iniziamo a disegnare il nostro percorso Ok, dobbiamo poi raccogliere qua le varie matite che troviamo Matite e pennarelli, quelli che sono Raccoglito, no 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 Mamma mia, è troppo sensibile però sto gioco È più sensibile rispetto agli altri Però devo anche evitare gli ostacoli Guardate qua, divento sempre più grande qua di lato Sempre più grande Mamma mia, quante penne che abbiamo preso Vai! E ora possiamo disegnare Tap to paint, non so cosa devo disegnare Ah, sta disegnando tutto da solo Devo toccare E si disegna il disegno E vai! Veloce, veloce Vai! Abbiamo pure comprato No, possiamo sbloccare qua il box per altri pennarelli Va bene, no grazie Andiamo avanti Raccogliamo le monete Prendiamo qua le 36 monete E abbiamo completato il primo livello Allora, vediamo se posso migliorare qualcosa Non posso migliorare nulla Però posso prendere altre pennarelli che stanno di qua No! Non ha mancato uno Cos'è quello? Oh! Ho sacrificato un pennarello per rompere il vetro Facciamo tanta attenzione No, non ho perso un altro Non ho perso un altro Aiuto! L'amichetto coccodrillo Oh mamma mia Oh mamma mia E sta iniziando a farsi un po' più complicato sto gioco Vai, vai, vai Disegna, disegna Raccogliamo tutto per vincere questa corsa Secondo me sta uscendo fuori il disegno di Among Us lì davanti Lo vedo proprio lì davanti C'è lì Insomma Ok, raccogli qua 24 monete Perfetto E facciamo il prossimo livello Oh! Posso migliorare qualcosa Quindi miglioro qua ad esempio count Così comincio con un pennarello in più Andiamo avanti Cosa sono questi pennarelli? No, 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 no Il pennarello gigante è argentato No, non è gigante questo Aiuto, aiuto Ho praticamente il pennarello tutto quanto brillante Prendiamolo, prendiamolo Aiuto No, il compasso, il compasso Aiuto Quello vuole rompere i miei pennarelli Vuole rompere la mia schiera di penne Ok No! E vabbè però Ho pure i vetri che mi piazzano qua davanti Non mettetemi i vetri Così vedete che non ho più bisogno di tutte queste cose Disegna, disegna Vai, 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 vai Usiamo tutti questi pennarelli Che stavolta ne abbiamo presi un bel po' di Cioè ne abbiamo veramente tanti qua adesso di pennarelli Su, su, lancia tutto Lancia tutto Sì, che bello Ok Abbiamo quasi completato il disegno Dobbiamo completare quel disegno Va bene Prendiamo le 57 monete E direi di migliorare anche qualcos'altro Perché mi sembra che con 50 monete io possa migliorare qualcosa No! Skin speciale! La nuova skin che però mi tocca schippare Non posso prenderla Se no mi tocca guardare i video Quindi cosa posso migliorare qua? Non so Miglioro questo Non so cosa ho appena fatto Ma va bene lo stesso Miglioriamo tutto Tutto quello che c'è da migliorare Noi lo facciamo Raccogli tutti questi pennarelli Vai Che bello No, 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 no Le puntine aiutano E vabbè però Ho pure le puntine che mi hanno messo qua sul percorso Perché mi devono fare i percorsi così difficili con le puntine? Perché mi dovete fare queste cose? No! E qua ne ho perse Ne ho perse Ma non importa Perché comunque il disegno Possiamo sempre portarlo avanti Su, su, veloce, veloce Migliora sempre di più Andiamo avanti Così completato Completato 5 monete 5 dollari Sì, 500 monete Per aver completato il disegno So, so E ora facciamo il secondo disegno di qua Questo mi sa che sarà molto più grande da completare E qua abbiamo una tela molto grande Quindi mi sa che lo faremo più avanti Nei prossimi livelli Prendiamo qua le monetine Direi di migliorare Questa volta miglioro il paint E poi miglioro qua un count in più Così ho una penna in più Comincio con qualcosina in più Uh! Nuova penna speciale qua Cos'è questa? Oh mamma mia La penna di lava Abbiamo la penna di lava Che bello Su, 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 su Raccogli tutto Tutto quello che trovi Ok No, 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 no Aiuto Mamma mia Quel temperamatite Qua ce la faccio passare Non chiedetemi come Ma sono riuscito a passare Non chiedetemi come Ma ce l'ho fatta No! E vabbè però Ok Prendi qua Prendi qua E ora Mettiamoci qua Disegnare Facciamo i più bei disegni Del mondo Che stavolta abbiamo fatto Una lunga corsa Per arrivare a sto disegno Una lunga corsa Veloce Veloce Chissà cosa sta uscendo fuori Sembra tipo O una mappa O un paesaggio Non lo so Ancora non si capisce bene No grazie Andiamo avanti E facciamo il prossimo livello Su, su, su Vai avanti Vai avanti Raccogliamo le monetine Skin speciale Che però non posso prenderla Quindi Sarà per un'altra volta Facciamo qua il paint Così quando arriviamo al disegno Possiamo migliorarlo Ok No! Il vetro Mi hanno messo il vetro davanti No 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 Vabbè prendiamo qua le penne verdi Così mi distruggono di là Perfetto No! Ah ok ok Ho visto lì quella ciotola Che si è praticamente Buttata giù In questo modo Grazie ciotola Che mi dà gli altri pennarelli Qua ce la faccio passare Il cactus No! Ok Vai Andiamo qua Disegniamo per bene Completa il disegno Completiamolo fino alla fine Vediamo cosa esce fuori Proviamo a vedere Ok ok Vai avanti Vai avanti Mamma mia Sto disegno è bello grande È grande rispetto a quello Che abbiamo fatto prima C'è quello là Boh Nel giro di qualche livello Siamo riusciti a farlo Qua invece è Siamo ancora lontani dalla metà Siamo molto lontani Prendiamo qua Non so che cosa Miglioriamo Penso sia la larghezza Del disegno Ok Prendi qua Prendi qua altre Altre penne In questo modo Bravo personaggio No! È il vetro Perché mi mettono il vetro Non lo voglio il vetro Toglietemi ste cose di vetro Dal percorso Vedete che io posso fare Tutto quanto in tranquillo Ah ok No io quando vedo ste cose che si muovono Inizio già a preoccuparmi Va bene Tagliamo qua Altre ste cose di vetro E ora Disegniamo Siamo arrivati alla fine qua Del livello Vediamo quanto riusciamo a disegnare E devo ancora capire che cos'è Ma cos'è? Agli occhi No non è un paesaggio Mi sa che questo qua Un gatto Mi sa che stiamo disegnando Un gatto In un modo molto artistico E vai Livello superato E completato Alla grande No grazie Però prendiamo le monete Che abbiamo accumulato Vediamo se posso migliorare E niente Non posso migliorare nulla Peccato Peccato Va bene Raccogli qua Raccogli tutto quanto Bravo personaggio Raccogli di qua Sì 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 Che a sto giro Stiamo completando il disegno No 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 Libro non ci provare Non ci provare Anche di là il libro Non ci provate libri Ok Arriviamo di qua E ora togliamo Ste cose di vetro E completiamo il disegno Vediamo se a sto giro Ce la facciamo Non credo di farcela già A questo livello Forse il prossimo livello Riusciamo a completare il disegno Ma qua non credo proprio Su su Completa completa Vai 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 Che bello che bello Su su Tutto quanto Tutto quanto Vai Sì ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti a creare La nuova opera Che tra l'altro Quello là è il gatto di un meme C'è un meme proprio con quel gatto In quel modo Ok E qua l'unica penna gialla Ma cosa Non mi ha fatto niente Non mi ha disegnato niente Quella penna gialla Non c'è niente Non posso aprire lì Il box delle penne Perché Devo guardare il video Andiamo avanti Vediamo cosa Possiamo migliorare Miglioriamo qua il conteggio Come abbiamo fatto prima Così cominciamo con una penna in più Ok ok Guardate qua Stiamo diventando sempre più numerosi Aiuto no 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 Ma se io non avessi avuto Nessuna penna viola Per rompere quel vetro Cosa sarebbe successo Oh Nuova penna speciale Nuova penna speciale Perfetto Vai 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 Dagli di là Distrugge tutto Distrugge tutto Prendiamo tutto quanto E vai E così cominciamo Finalmente il nuovo disegno Che prima ho tirato la penna gialla di prima Non è successo Non è successo nulla Ma dai Ok ok Disegniamo Disegniamo tutto quanto Tutto quello che c'è da disegnare Mamma mia Cosa sto scendo fuori Non so cosa sto scendo fuori Ma va bene Andiamo avanti Prossimo livello Prendiamo le monetine Andiamo qua No 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 Orsacchiotto Stai fermo Stai fermo Orsacchiotto Per favore Per favore Andiamo di qua Oh c'è il cactus L'amichetto cactus Andiamo qua Ok Tagliamo sti cosi di vetro E ora prepariamoci Al gran disegno Su 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 Disegna tutto Disegnate tutto Quello che c'è da disegnare Pim 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 Andate qua Su su Veloci Veloci Mamma mia Vedo sti cosi qua Che vengono lanciati Contro la tela Di disegno Pim Proprio a colpire No Come se fossero Dei cannoni Su su Lanciate qua Tutto quanto Tutto Tutto quello che c'è da lanciare No Ho già finito le mie penne Le ho già finite No grazie Andiamo avanti Mi sa che sto giro Questa tela Non riusciamo a completarla Perché siamo già arrivati A livello 19 Nuova skin speciale Sì come prima No non le posso vedere Se è skin speciale Mamma mia Fatemi disegnare qua Fatemi correre Per disegnare No C'è il compasso C'è il compasso di là Aiuto aiuto No 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 Compasso Non mi toglierei mai Le mie penne Che ho sbloccato Che ho raccolto Non ce la farai mai Nuova penna speciale L'abbiamo raccolto Una nuova penna speciale Attanto poi Solo in sto livello Le posso usare Perché mi tocca A poi guardare i video Se le voglio utilizzare Ok andiamo di qua Rampiamo tutto di là E ora prepariamoci Dopo quando arriviamo al disegno Possiamo Eh vabbè ma No 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 cosa ho combinato Cosa ho combinato Dicevo Quando arriviamo al disegno Possiamo completarlo meglio Ok Togliamo di qua Raccogliamo queste altre penne Andiamo di qua Sono praticamente caduto fuori No 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 Aiuto Cosa sono quelli Gli amichetti coccodrilli C'erano Eh vabbè però Qua gli oggetti cadono Proprio quando arrivo io però E non vale così E non vale Ok raccogliamo di qua Da questo lato Raccogli anche di qua Ok ok Prendi tutto Prendi tutto E dai che ora Ci accingiamo A completare questo disegno Dai che ce la facciamo Ce la faremo Ce la faremo A completare questo disegno Cos'è una mucca E una mucca questa E vai Ce l'abbiamo fatta Abbiamo completato il nuovo disegno E ora cominciamo qua A fare il quarto disegno Su su Tirate di qua Su su Veloce veloce Che facciamo qua Questo nuovo disegno Cos'è sta roba Va bene Va bene No PSY Non importa Andiamo avanti Andiamo avanti E facciamo il prossimo livello Ok no grazie Raccogliamo qua le monete E facciamo qua Il livello numero Boh Non lo so Che numero è questo livello Non mi hai dato saperlo Non mi hai dato conoscerlo No Ho sprecato lì per rompere il vetro Ok raccogli di qua Raccogli di qua Cosa sono quei cosi Quei cosi che vanno su e giù No 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 Non ci provate Non ci provate A farmi perdere tutte le mie penne Non ce la farete mai No Ora devo fare attenzione a quel vaso Perché avevo una paura Che cadesse Avevo veramente paura Che cadesse Ok Beh siamo arrivati A un bel po' di monete Quindi disegna qua Tutto quanto Tutto quello che c'è da disegnare PSY Cat Va bene Su su Qua cosa c'è C'è un gatto allora Ah ho capito Qual è E' quel gatto Quello con gli occhiali da sole Anche questo qua Un altro gatto di un altro meme Va bene Va bene No grazie Andiamo avanti Andiamo avanti E facciamo quest'altro Posso migliorare la larghezza Ok Così Ho il tratto della penna Sempre più largo E vai Che bello Disegniamo sempre di più Sempre più nel percorso E vai Nuove penne cadute Su su Raccogli 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 Direi di fare ancora qualche livello Giusto per completezza Andiamo di qua Tu so Rompi quel vetro Rompi tutto quanto Cioè il gioco sta iniziando a laggare Per le troppe penne che ho Ah ok No non si toglievano più quelle cose Per le troppe penne che ho a disposizione E non si immaginerà adesso Ok Disegniamo qua Tutto quanto Veloce veloce Ce la possiamo fare Tutto Tutto quanto Il disegno Dobbiamo completare Tutto quanto Non deve rimanere più nulla Cioè si Deve rimanere soltanto più il disegno Ok dai 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 Veloce 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 Dai Che stavolta di penne ne abbiamo tante Ne abbiamo tante come Perché non mi fa l'orecchio Ora ce l'ha fatta Vai Non abbiamo completato il disegno Ma abbiamo fatto comunque gran parte Direi di fare soltanto più qualche livello Qua uno Suso prendi tutte ste penne qua Raccogli tutto amichetto Raccoglile tutte Raccogli anche di qua Fai soltanto attenzione In questo modo Bravo 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 Rompi il vetro Mamma mia sto vetro però E mamma mia il vetro Non mi piace il vetro che mi compare lì davanti Aiuto Cos'è Cos'è Ah ok C'era praticamente il vuoto C'era il vuoto I libri però mi hanno fatto da ponte Ok Tarniamo a completare questo disegno Vai qua Lancia 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 Bravo amichetto Bravo Che stai completando il disegno Ce la stai facendo Ce la stiamo facendo Completa anche di qua In questo modo Facciamo anche questo lato Ci manca soltanto più lo sfondo Di questo PSY Cat Prendi qua Lancia di qua le penne E le ho finite tutte le penne Le ho finite tutte No Va bene Direi di fare una cosa Direi per ora Torniamo qua nel menu principale Vediamo se possiamo migliorare Qualcosina No Non posso migliorare nulla Peccato Peccato Direi di fare una cosa Direi di finire qua questo video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi piaciuto mi raccomando Spolliciate così vi dete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo in un prossimo video E come sempre vi auguro Una buona giornata Una buona serata E una buona notte Ciao a tutti Ciao a tutti E buon panino a tutti Ciao 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 a tutti